buongiorno a tutti seduta molto interessante quella di ieri dove abbiamo fatto anche il webinar sui livelli di eccesso proprio perché sulla scia degli argomenti che abbiamo trattato durante il webinar mi è venuto voglia di andare a guardare cosa sta succedendo sui principali algoritmi di volatilità sulla piattaforma pro real time sulla quale come sapete faccio i video analisi quotidiane ho la possibilità di avere quattro strumenti che sostanzialmente replica l'andamento del vix sia in questo caso sull sp500 il vix vero e proprio il vxn che è il vix del nasdaq poi c'è una sorta di vix sul dax e una sorta di vix sull'euro stocks che ha già lui un suo future di volatilità che spesso andiamo a controllare che appunto quello sulle 50 azioni europea sono andato un attimo a guardare delle cose andiamo a prendere questo grafico giornaliero nel quale voi vedete che la volatilità chiaramente da ottobre momenti di grande depressione del mercato fino a questi giorni è andato progressivamente calando pareggiando e dando una sistemazione ai prezzi del sp500 che negli ultimi tempi ha provato a risalire ma una risalita che vedete non è dal punto di vista della volatilità molto coerente nel senso che se guarda l'indicatore di sentiment è ancora depresso e questo farebbe pensare che la volatilità non abbia questi spazi per salire se prova da vedere le pressioni di acquisto vendita le cose cambiano perché perché ho la possibilità di scorporare le pressioni acquisto vendita vedete che la pressione di acquisto di copertura di volatilità sta salendo e ha tagliato nella sua parte più lunga la media mobile questa pressione di acquisto di volatilità 65 periodi e questa è la media mobile quindi la volatilità della volatilità sta crescendo significa che il mercato sta diventando più nervoso ok questo fatto ho provato a vederlo se mi dava delle altre indicazioni per quanto riguarda il nasdaq e notare che anche in termini di pressioni di acquisti vendite c'è stato un calo della volatilità sulle sp 500 a partire da metà dicembre ma dopo due mesi il mercato la vola non la vende più la comincia a comprare si è stabilizzato lo dite andiamo a vedere il nasdaq qui il calo della volatilità è stato molto marcato perché comunque il nasdaq è più volatile ma vedete in termini di sentiment stiamo sempre più vicini al contatto con la media mobile e se vado a vedere anche le pressioni in acquisto di copertura di volatilità cominciano a uscire fuori delle cose nel senso che si comincia a comprare protezione dalla volatilità allora le trovi ma cerchiamo di capirci qualcosa di più sono andato a vedere sull'europa partendo dal dax il dax sta incrementando la sua volatilità e sta sulla linea dello zero per quanto riguarda la pressione acquisti vendite la volatilità sta facendo su e giù e quando va giù chiaramente il mercato sale quando va su il mercato scende ma sta piano 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 rallentando la sua corsa e se vado poi sull'euro stocks vedo che in realtà sull'euro stocks 50 azioni europee la pressione in acquisto di coperture e l'incremento della pressione in acquisto per copertura di volatilità data dal fatto che la volatilità della volatilità sta aumentando quindi si compra protezione della volatilità è maggiore allora ho detto dov'è che perché e dov'è il mio maggiore segnale di attenzione sulle bolse che mi fa pensare indipendentemente dai pronunciamenti di ballard e della master che hanno detto qui con l'inflazione non ce la facciamo bisogna ancora picchiare duro aumenti a 0 50 poi probabilmente politicamente in serie anche di dibattito si andrà su 0 25 ma qui i dati forti il mercato del lavoro e i dati sui prezzi della produzione che sono cresciuti spostano l'attenzione su quanto durerà la manovra restrittiva dei tassi non a che velocità procederà ma intanto sono andato a guardarmi sull'europa il nostro fuzzi salita imperiosa tecnica stamattina chiaramente c'è uno stacco perché stiamo comunque un po scendendo ma mamma mamma la volatilità è in fortissimo calo a livelli che probabilmente sono di poco superiore al 12 per cento annualizzato che abbiamo trovato nel grande periodo di salita ininterrotta del 2021 poi successe quello che successe la guerra e oggi siamo di nuovo su massimi pazzeschi massimi a 27.200 che dicono delle cose non dimentichiamoci l'area di 27.200 sul nostro fuzzi mib perché un'area estremamente importante ma se vado a vedere la pressione in acquisto sul nostro indice chiaramente è estremamente forte ma voglio andare a vedere se negli ultimi due anni abbiamo delle cose che mi dicono che siamo in eccesso e allora vi prendo il sentiment e ve lo estrapolo un attimo più grande e vado a fare delle misurazioni picco qua qui ci fu un eccesso andiamo a misurarlo a oggi lasciamolo lì e andiamo a vedere se anche qua vi è stato un eccesso torniamo a vedere tutto all'interno del grafico perché perché se io prendo questo eccesso che me lo sposto qua ai giorni nostri e i bimbi ci siamo 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 in livelli di eccesso di acquisti eccesso di acquisti compressione di volatilità direzionalità della dx ai massimi cioè questo è un mercato che sta tirando a tavoletta in rettilineo sta sfogando tutta la sua potenza non ha ulteriori cavalli da spremere arriverà una curva occhio perché la curva sta arrivando la mia sensazione mettendo insieme livelli tecnici del mercato più forte europeo prospettive di volatilità sull'america è quella che sto reiterando da una decina di sedute operative non è il momento ancora di pensare a un'inversione ribassista forte ma il momento di prendere atto che la volatilità sta tornando perché il mercato è eccessivo e questi eccessi vanno incassati questa è la mia netta idea e ve la faccio vedere anche osservando un'altra cosa voi sapete che guardiamo anche di spread torniamo allo spread più brutale che il 2 barra 30 anni questa è la salita del titolo a due anni confronto al titolo a 30 anni una salita di questo genere fa sì che chiaramente in termini di prospettive sui tassi qui si è messi malissimo perché il tasso a breve continua a rendere di più del tasso a lungo questo non va bene questo non va bene oggi il due anni perde il 30 anni perde maggiormente cioè significa che in un momento in cui bond stanno scendendo il due anni scende meno del 30 anni quindi il 30 anni sta aumentando in un certo senso di rendimento è ovvio in senso prospettico quantunque il rendimento vada fatto fra prezzo e cedola per cui le cose vanno viste un pochettino più in complessivo ma se andiamo a vedere l'andamento dei mercati obbligazionari e degli indicatori noi ci troviamo oggi negli stati uniti che abbiamo qualche cosa di cui è bene parlare questo qualche cosa di cui è bene parlare ve lo vedete adesso in questa schermata ops è partito via il grafico eccolo qua questo è il 10 anni 3,89 il 2 anni 4,68 il 20 anni e 30 anni 4,08 3,94 significa che il mercato si sta pesantemente spostando su una curva sempre più inclinata ma sfavorevolmente perché prezza rendimenti molto più elevati sulle scadenze corte guarda l'annuale 5 per cento guarda il 6 mesi 503 guarda il 3 mesi 484 questi sono anche tutti i tassi che poi vanno a riverberarsi sul mercato immobiliare dei mutui quindi nel momento in cui l'obbligazionario lungo non rende tantissimo ora se sta calando di prezzo ma non nella misura in in cui cala il due anni andiamola a vedere qua che sta breccando i suoi massimi assoluti cosa che il 30 anni non sta facendo ancora che il 20 anni non sta facendo ancora questo ci dice che oggettivamente parlando c'è qualche cosa sui mercati che nel fine di questa settimana e quindi pensiamo a tutti i regolamenti delle opzioni che quando il mercato sta entro una certa fascia tendono a far guadagnare tutti i detentori delle opzioni settimanali ma quando il mercato esce da una certa fascia di tranquillità perché aumenta la volatilità quindi rompe al rialzo le resistenze ma rompe al ribasso anche supporti diventa un mercato che si auto amplifica di volatilità e lo vediamo dall'andamento dei titoli di stato il suggerimento a cuore aperto che vi do alla fine di questa settimana e con cui concludo questo video è fate estremamente attenzione se non sono chiaro lo ripeto fate estremamente attenzione buon fine settimana a tutti